Cristiano Doni, la tua prima volta da titolare in questa stagione calcistica, com'è andato? Sono abbastanza soddisfatto. Il mister ti ha fatto i concludimi, partiamo da questo. No, l'importante è che ha fatto capire che ci sono, che sono a disposizione. Sto lavorando bene, l'ultima settimana su un crifurro molto, forse questo ha convinto il mister, lui non ha finito. Penso che la gente immagini, in realtà lui non ha regalamento a nessuno, nonostante ci conosciamo bene, però il mister pensava che potessi dare una mano a questa squadra in termini di qualità, non so, di potenziale fissi, di robore. Però no, in parte di scherzo, siamo stati anche un po' sfortunati, abbiamo fatto delle buone trame, abbiamo giocato pala a terra nonostante fosse difficile oggi, un po' per il campo, per il passetto più buono. Io penso che sia un passo in avanti, questo è un positivo. C'erano tante partite con tante cresce.